Siamo cittadini qui della valle, abbiamo deciso di recarci davanti a una fabbrica dove abbiamo avuto informazione che c'è ancora un pezzo della talpa che deve andare in cantiere, noi ci faremo vedere e daremo informazione a tutti coloro, compreso gli operai, che quella talpa, quel pezzo non è indispensabile ma farà parte di quella talpa che farà la devastazione dalla nostra terra, che farà danni alla nostra salute e quindi siamo determinati a farci vedere e a protestare come abbiamo sempre dichiarato. Ci vedremo davanti a questa fabbrica per far presente che noi siamo sempre sul territorio, saremo lì, invitiamo i cittadini che sono sensibili a venire, a informarsi, a dare informazione e fare la nostra presenza come al solito di protesta pacifica come sempre, pacifica ma determinata. Grazie. 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 Grazie.